Ciao Daniela, ti vediamo qui davanti alla Crio. Raccontaci un po' la tua storia, perché hai deciso di fare la Crio sauna. Ho avuto il fuoco di Sant'Antonio. Dopo diverse terapie antivirali, non avevo nessun beneficio, mi hanno consigliato di provare a fare la Crio. Sono venuta costantemente per una decina di volte. Già alla terza terapia avevo trovato beneficio. Ho continuato e posso dire che sono rinata. Ci fa molto piacere, quindi riassumendo, fuoco di Sant'Antonio, hai fatto dieci sedute, come ti abbiamo consigliato, giusto? Sì. In quanto tempo le hai fatte? Le prime cinque, una dietro l'altra, poi distanziate la settimana dopo ogni due giorni, per cui erano tre, e la settimana dopo due. Questa è stata la mia ultima, ma sto proprio bene. Quindi diciamo, molto ravvicinate, quotidiane le prime cinque, un po' più. Distanziate le altre. Esatto, quindi 15-20 giorni, una decina di sedute. Perfetto. E questo ti ha dato beneficio? Molto. Perfetto. Sono davvero contenta. Ci fa molto piacere, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Grazie della tua testimonianza. Grazie. Alla prossima. Arrivederci.